Benvenuti! Oggi vedremo come si preparano delle squisite polpette con quinoa e zucchine Vediamo insieme gli ingredienti e la preparazione Dopo aver sciacquato 100 grammi di quinoa sotto acqua corrente Cuocetela per 10 minuti da quando inizia a bollire con 200 ml di acqua Nel frattempo prendete 200 grammi di zucchine e dopo averle lavate tagliatele a dadini finissimi Dopo aver cucinato la quinoa versatela nelle zucchine Dopodiché unite 60 grammi di parmigiano grattugiato 80 grammi di pan grattato 2 gambi di erba cipollina La scorza di un limone non trattato 2 uova Un pizzico di sale e un pizzico di pepe Mescolate E infine aggiungete 100 grammi di fontina grattugiata Provate queste polpette e ditemi cosa ne pensate Se vi piace questa ricetta mettete un like E soprattutto condividete, condividete, condividete E se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale di cucina Dopo aver preparato tutte le polpette Cuocetele a forno caldo statico a 180 gradi per 15 minuti e 5 minuti con il grill Se non avete il grill, cuocete per 20 minuti Grazie per aver visto il video Io vi aspetto alla mia prossima videoricetta Ciao ciao da Gian Grazie per aver guardato il video